Seduta a plenaria per così dire questa mattina dei due consigli comunali di Figline ed Incisa un'assemblea molto nutrita di consiglieri, dei sindaci e rappresentanti in vista del referendum per l'istituzione del Comune Unico. Le commissioni che hanno lavorato a questo ordine di giorno hanno cercato di recepire quelle che sono poi le istanze che sono uscite anche dagli incontri con i cittadini sul territorio per spiegare il progetto del Comune Unico. Io credo uno di particolare interesse sia quello che è stato fatto dalla prima commissione consigliare insieme al laboratorio partecipativo sullo statuto per andare a chiedere fondamentalmente quali sono i principi del nuovo Comune Unico, quindi la trasparenza, la partecipazione, la possibilità di tutti i cittadini di sentire il Comune non più come un'entità estratta che la politica è lontana ai cittadini ma qualcosa del loro vicino che gestisce insieme ai cittadini la propria comunità e che cerca di migliorare la comunità dove questi vivono. È stato un lavoro proficuo, le commissioni hanno discusso, si sono riuniti più volte negli ultimi mesi e sicuramente penso una modalità importante per sottolineare come questo percorso sia partecipato, coinvolga veramente tutte le forze politiche presenti nei consigli comunali e quindi è un progetto di grande respiro che speriamo che con l'appuntamento del referendum del 21 e 22 aprile venga recepito dalla cittadinanza come veramente opportunità. Diversi i punti che erano all'ordine del giorno ma il più importante sicuramente è quello relativo all'ospedale Serestori. Serestori merita un'attenzione continua, è un'eccellenza del territorio, è un'eccellenza che va in tutti i modi difesa, tutti i cittadini si devono sentire partecipi in questa difesa, nessuno escluso. L'ospedale è il nostro ospedale, ha una sua storia che è legata in modo indissolubile sia con Figline Valdarno ma anche con altri territori vicini a Figline Valdarno, da domani dal 21 e 22 aprile sicuramente anche con Incisa Valdarno. Quindi l'ospedale Serestori, come molte volte abbiamo detto in consiglia comunale, non si tocca.